e amici di atti sport ventiquattro bentornati in nuova puntata di due metri la pallanuto vista da vicino non può mancare nel nostro palinzesto settimanale un passaggio con gli amici della check up rarinante salerno e per parlare della compagine giallorossa è un piacere ritrovare insieme a noi l'universale della compagine allenata da cristian presciutti zeno bertoli ciao zeno bentornato e lo dico con il cuore mi fa piacere di incontrarti ciao a tutti buonasera zeno partiamo dall'ultima uscita ufficiale il derby giocato è perso sabato scorso 6 a 5 contro il circolo nautico posillipo la rari appunto perde di misura a napoli quale eredità vi lascia la sfida della scandone sicuramente ci lascia un po' di amare in bocca per per l'ultimo tempo che poi forse potremmo strappare un pareggio sul finale ci lascia comunque delle indicazioni su quelle su quali sono le le cose su cui porre rimedio la partita da fasi alterne diciamo che noi abbiamo fatto un ottimo quarto tempo i primi tre siamo stati un po' in confusione soprattutto sullo schieramento che è quello che ci ha più messo in difficoltà nelle fasi di attacco certo è un progetto in crescita il vostro è un progetto che secondo me ha bisogno di tempo io ti chiedo cos'è che vi è mancato nel finale per completare la rimonta e uscire dalla vasca con almeno un risultato positivo ma sicuramente diciamo giocando solo la parte finale del della partita quando poi il gap si era si era creato siamo arrivati corti sul finale recuperare poi tanti gol non è semplice ne avevamo fatti già tre siamo stati bravi anche con un ultimo occhio a occasione per il pareggio però non è non era semplice non era semplice eh nostro come tu hai anticipato sicuramente un progetto e un percorso che stiamo facendo e i risultati secondo me della nostra crescita si vedranno un po' più avanti adesso stiamo lavorando e il bene soprattutto quello è la cosa più importante e allora insisto sulla falsariga della tua risposta è un progetto che cresce ci sono sicuramente tanti margini di miglioramento però ciò che mi importa eh in questo momento è chiederti quanto ci vorrà perché diciamo il credo di mister presciutti si è assimilato al cento per cento dalla squadra eh guarda darti del una una data un tempo orientativo ovviamente no vabbè ma è più che altro eh la il lavoro che stiamo facendo oltre che un lavoro generale di gruppo è anche un lavoro individuale perché ovviamente la crescita del singolo poi sommata crea una crescita generale della squadra eh sicuramente c'è chi in questo periodo ha fatto più passi in avanti chi ha bisogno di più tempo eh però come ti dicevo dare un dare un tempo definito non è non è semplice eh sicuramente quello che a noi compete è che dobbiamo fare assolutamente le cose che ci vengono dette e non a fasi alterne come spesso succede durante la partita ma questo è è un fatto anche di di esperienza di fare le cose provarle e non assimilarle a cento per cento quella è un fa parte del percorso certo a che punto è arrivato il processo di ambientamento dei nuovi arrivati comunque giocatori importanti credo soprattutto per quanto concerne tolto Daniel che diciamo un po' tuo compagno di reparto per certi versi eh mi riferisco soprattutto ai due stranieri che sono pedine chiamate poi a fare la differenza anche in fase di soluzioni perimetrali ma sicuramente noi nella parte iniziale del del campionato a causa infortunio c'è mancato Goreta per per partite per cioè per questo lungo periodo ovviamente a livello empatico caratteriale si è subito integrato sono ragazzi squisiti eh sotto il profilo del gioco secondo me proprio con Antun ancora in alcune fasi di gioco si vede ancora che è diciamo è mancato per questo periodo e si deve deve ancora rientrare in certi meccanismi però c'è veramente questione di di solo di di giocare invece per Ivan già ormai è integrato su tutto sia a livello di spogliatoio di di squadra di gioco sono diciamo è lui che deve ancora crescere individualmente sotto aspetti alcuni aspetti del gioco però come integrazione al cento per cento dall'esterno te lo avevo già accennato appare evidente l'eccellente impatto di mister presciutti sul gruppo chiedo ad uno dei saggi della ck renante salerno uno dei giocatori più esperti che effetto ti ha fatto ritrovare in panchina un vecchio compagno di squadra perché tu con lui hai giocato con la gallottina della n breccia no vabbè a me ovviamente della quando una notizia che sarebbe venuto a salerno sono stato non felice di più ovviamente sia per il nostro trascorso sia per l'amicizia che poi è continuata dopo anche perché sapevo che era essendo stato un ottimo giocatore sapevo che era la persona adatta perfetta per l'ambiente di di salerno per per permettere soprattutto ai ai giovani di fare un percorso di crescita eh io personalmente come ti ho detto eh c'era super felice anche perché ti ho detto c'è un rapporto già di di amicizia sia di famiglia eh sotto tutto questo aspetto e niente niente ero contentissimo i primi i primi giorni facevo fatica a chiamarlo mister perché mi veniva di chiamarlo capitano come quando lo chiamavo a quando stavamo al Brescia però poi ovviamente ti abitui e la figura adesso è quella di del mister. Zeno faccio un po' il provocatore credete ancora la possibilità di l'aggancio al settimo posto? O non guardate la classifica per ora? No io guardando la classifica che poi sono uno che guarda un po' sai le partite che devono venire le squadre classifica non lo so se è ancora la nostra portata cioè dobbiamo sperare ma non sono proprio il tipo che guarda i risultati delle altre guardo sempre il nostro io mi auguro di fare comunque un percorso in crescita di fare più punti possibile fino alla fine del girone di andata poi se le cose il fatto le cose andranno bene per arrivare eh noi ce la metteremo tutta per far sì che vadano bene ben venga se no non fa niente comunque un buon risultato. Quale salto di qualità serve a questo gruppo per riuscire a giocarsela alla pari con qualsiasi avversario? Ovviamente qualsiasi avversario mi limito ai terrestri. No sicuramente dobbiamo sull'aspetto individuale molte situazioni individuali vanno di qualità individuale vanno devono crescere eh chi meglio di mister presciutti può può apportare questa questo lavoro che stiamo facendo cioè individualmente la crescita individuale sarà motivo di crescita collettiva eh quindi ovviamente anche sul gioco si può lavorare ancora però ti ripeto come ti ho detto nella prima parte le cose vanno fatte sempre e non a fasi alterne quindi la continuità può essere una delle chiavi di crescita della Rari va la mettiamo così. Sì è un è un discorso anche di mentalità. Certo. Sabato arriva alla Vitale la Prorecco è solo dagli schemi tradizionali perché il risultato siamo onesti ci sembra anche segnato fin risultato è scontato. È scontato però io ti chiedo che risposte chiedete alla sfida con gli invincibili? Ma sicuramente c'è per noi è sempre motivo di crescita affrontare questo tipo di partite perché comunque nel bene e nel male è un confronto eh ovviamente verranno fuori tanti errori eh da parte nostra quando giochi con un avversario di questo livello di qualità eh però è un confronto sia di di come bisogna di ti fa capire tu a che livello sei i margini di errore di crescita è importantissimo per noi fare queste partite. Va bene siamo così al termine di questa chiacchierata ringrazio Zeno Bertoli per essere intervenuto do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Zeno grazie mille. Ciao Andrea grazie a te ciao a tutti. Grazie a tutti.